Buongiorno e benvenuti all'inaugurazione dell'anno accademico 2016-2017 dell'Università degli Studi dell'Insubria. Prende la parola il magnifico rettore, il professor Alberto Cohen Porisini. Autorità civili, militari, religiosi e accademiche, illustri colleghi, dirigente e personale dell'Ateneo, cari studenti, gentili signore e signori, porgo a tutti voi un caloroso saluto e vi ringrazio per aver voluto partecipare alla celebrazione di inaugurazione dell'anno accademico 2016-2017 diciannovesimo anno dall'istituzione dell'Università degli Studi dell'Insubria. L'inaugurazione dell'anno accademico è l'occasione solenne d'incontro della comunità accademica, formata dai docenti, dal personale e dagli studenti. Ma al contempo è il momento ufficiale di incontro tra l'Ateneo e i rappresentanti della società e dei territori in cui operiamo. È un'occasione di confronto nella quale condividere alcune riflessioni generali relative alla nostra società, al nostro sistema universitario e più in particolare al nostro Ateneo. A seguito della crisi finanziaria del 2007, il mondo è entrato in recessione e il nostro Paese è entrato in una crisi di cui non si vede la fine. Alcune stime dicono che l'Italia non tornerà ai livelli pre-crisi prima del 2024 in termini di PIL o addirittura prima del 2032 in termini di consumi. Le ricette per uscire dalla crisi proposta in questi anni, basate essenzialmente sullo slogan lacrime e sangue, ossia il taglio indiscriminato della spesa pubblica, hanno prodotto ulteriori danni, trasformando una crisi finanziaria in una crisi economica dapprima, sociale poi e culturale identitaria oggi. In questi ultimi dieci anni le differenze all'interno delle società occidentali sono cresciute. La sicurezza e le reti di protezione che caratterizzavano la società europea hanno iniziato a farsi più deboli e in alcuni casi sono scomparse. Il risultato è che oggi l'euro è messo in discussione, l'Europa è messa in discussione, i populismi si rafforzano ogni giorno e le ricette proposte sono sì diverse dal lacrime e sangue, ma rischiano di essere peggiori, perché basate sull'idea che per salvarsi ci si debba dividere, se non addirittura contrapporre. Dimenticando un vecchio detto che recita, l'unione fa la forza. È evidente come solo la cultura possa fornire gli strumenti per arginare una deriva populista, altrimenti inarrestabile. Una cultura che sappia dare risposte sul piano identitario, sociale e economico. Una cultura basata sui concetti di progresso, di crescita, di innovazione, di formazione, di merito. Sono necessari investimenti in formazione, innovazione, ricerca, per consentire a una società di progredire. E al contempo è necessario agire in modo tale da mantenere una coesione sociale, che oggi rischia di essere persa. Non si può immaginare che queste due linee di azione siano in contrapposizione. Sono entrambe necessarie, contemporaneamente. Senza coesione vi è la disgregazione, ma senza investimenti non è possibile garantire il mantenimento della coesione nel medio o nel lungo termine. Molti Paesi l'hanno capito, e non è un caso che laddove gli investimenti pubblici e privati siano ripartiti, la crescita sia tornata. In Italia, invece, gli investimenti pubblici non ripartono, o perlomeno non nei settori della formazione e della ricerca. Colpa dell'ingente debito pubblico, ci viene detto. Ma in realtà, ma la realtà, è che le risorse esistenti vengono usate per altri scopi. Si tratta quindi di scelte politiche. Siamo il fanalino di coda per investimenti in formazione e ricerca. E siamo il fanalino di coda per crescita. Siamo il fanalino di coda in termini di proporzioni dei laureati tra i giovani e siamo tra coloro che hanno il maggior tasso di disoccupazione tra i giovani. A nessuno viene il dubbio che vi sia una correlazione tra questi fenomeni. Nonostante questo scenario, il sistema italiano della ricerca continua a funzionare, come viene dimostrato dai risultati che è in grado di ottenere. I dati, recentemente presentati dalla conferenza dei rettori delle università italiane e dalla consulta degli enti pubblici di ricerca, sono ben noti agli addetti ai lavori. L'Italia continua a essere l'ottava potenza mondiale per quantità di produzione scientifica e settima per qualità. Nel periodo 2011-2014, l'impatto della produzione scientifica italiana è superiore alla media dell'Unione Europea. L'Italia è posizionata poco sotto gli Stati Uniti per impatto medio, ma con valori molto superiori per quota di pubblicazione su riviste di eccellenza, il cosiddetto top 5%. Tutto ciò, nonostante l'Italia investa meno di altri paesi in ricerca e sviluppo. L'1,33% del PIL nel 2015, quando la media europea è del 2,03% e abbia un numero inferiore di ricercatori rapportati alla popolazione. Il 4,73% contro una media europea del 7,4%. Sono sempre dati del 2015. Questi dati, però, sono paradossali solo in apparenza e sono facilmente spiegabili da chiunque conosca il mondo universitario e della ricerca. Innanzitutto il valore dell'università italiana, che è ulteriormente testimoniato da come vengono preparati i giovani ricercatori, i quali, non trovando sbocco nel nostro paese, vengono assunti all'estero. Poi la passione e la capacità di resistenza dei singoli ricercatori, che nonostante tutto trovano la forza di andare avanti, perché si rifiutano di credere che non ci possa essere speranza. Il risultato, però, è che nel sistema non c'è ricambio, e il corpo docente invecchia lentamente, ma inesorabilmente. Il blocco del turnover, giunto oramai al decimo anno, ci ha già fatto perdere una generazione di ricercatori, e proseguendo così, arriveremo a perdere l'intero sistema. I governi che si sono succeduti in questi anni, hanno agito tutti nello stesso modo, tagliando le risorse prima e annunciando poi piani straordinari di assunzioni, o in alcuni casi mirabolanti riforme, che avrebbero curato tutti i mali delle università. L'università non ha bisogno di riforme, ne ha già avute fin troppo in questi ultimi anni. Non ha bisogno di piani straordinari, che servono solo a fare i titoli dei giornali. Bensì ha bisogno di risorse per poter funzionare nella ordinaria quotidianità. Ha bisogno di risorse per assumere e pagare decentemente i professori, i ricercatori, il personale tecnico-amministrativo. Ha bisogno di risorse per garantire un reale diritto allo studio, agli studenti meritevoli. Ha bisogno di risorse per offrire servizi degni di un paese civile agli studenti e per ammodernare le proprie infrastrutture logistiche, tecnologiche e scientifiche. Lo scorso anno, il 21 marzo, fu indetta dalla CRUI la Primavera dell'Università, una giornata dedicata a sensibilizzare la società civile e il mondo politico ha l'opportunità di rilanciare il paese attraverso il rilancio dell'università, della formazione, della ricerca. A quasi un anno da quel giorno possiamo affermare di essere ancora in pieno inverno. La legge di stabilità 2017 interviene sui meccanismi di contribuzione studentesca, scaricandone l'effetto in buona parte sui bilanci degli Atenei. Inventa nuovi piani straordinari di cui ancora non si conoscono i meccanismi. E unica nota positiva elimina il tetto di spesa e l'emissione e la formazione del personale. Un'invenzione del passato sulla quale preferisco, per decenza, non fare alcun commento. Riguardando i precedenti discorsi inaugurali mi rendo conto che quanto ho detto sinora avevo già avuto modo di esprimerlo anche se con toni differenti negli scorsi anni. L'effetto sortito da queste richieste d'attenzione da parte del mondo della politica è tale da farmi dubitare del fatto che vi sia qualcuno l'ascolto. Quest'anno ci ritroviamo anche perché lo dobbiamo a tutti coloro che al nostro interno con passione e sacrificio consentono al sistema di funzionare. Ma lo dobbiamo anche a quella parte di società civile che guarda noi e che vuole collaborare con noi per provare ad andare avanti. A tutti dico che noi non abbiamo perso la speranza e anzi siamo qui a metterci in gioco nonostante tutto. Lo facciamo innanzitutto lavorando per costruire un'università migliore più radicata sul territorio più aperta al mondo e che ci consenta di crescere insieme. Qualche dato per fortuna ci conforta. Ricordo innanzitutto quanto ho già detto in altre occasioni. Dalla nascita dell'Ateneo nel 1998 abbiamo oramai laureato oltre 23.000 giovani portando in molti casi per la prima volta un titolo di studio universitario all'interno di famiglie che hanno fatto sacrifici per consentire ai propri figli di raggiungere questo traguardo importantissimo. Continuiamo a essere tra gli Atenei che hanno un tasso di occupazione dei propri laureati a un anno del conseguimento del titolo tra i più alti d'Italia. Grazie sicuramente alla vitalità del nostro tessuto produttivo con cui però siamo stati capaci di dialogare in un interscambio continuo. La riprova è anche data dal successo di alcuni corsi di laurea triennali e magistrali particolarmente vicini alle aziende del nostro territorio. In altri termini stiamo insieme alle imprese dandoci da fare per avvicinare il più possibile il mondo della formazione universitaria al mondo del lavoro. La capacità di aprirci verso il territorio e di rimboccarci le maniche per fare orientamento ossia per colmare il fossato esistente tra il mondo della scuola e quello dell'università è testimoniato dei risultati ottenuti in termini di matricole che sono passate dai poco meno di 2300 dell'anno 2012-2013 alle quasi 3000 di quest'anno accademico. Di conseguenza sono aumentati gli studenti iscritti che complessivamente hanno superato il numero di 10.000 tornando ai livelli antecedenti all'applicazione della legge 270 una delle tante riforme che il sistema universitario ha vissuto. Il dato è particolarmente confortante anche alla luce del fatto che il numero di studenti iscritti in posizione regolare è in aumento e supera oramai il 75%. Il ruolo di un auteneo moderno è quello di avere un orizzonte internazionale e da qualche anno abbiamo deciso di puntare sull'internazionalizzazione investendo sempre più risorse nei programmi di interscambio studenti, docenti, personali e nelle lauree internazionali. In questi ultimi anni abbiamo quasi triplicato le risorse disponibili per l'internazionalizzazione e dal prossimo anno accademico avremo 7 lauree magistrali su 11 che prevedono il rilascio di un doppio titolo grazie ad accordi con prestigiosi università europee. Tutto questo è reso possibile dall'impegno di tanti colleghi docenti e tanti colleghi del personale che svolgono il loro lavoro con passione e perché credono che la nostra missione primaria sia quella di costruire opportunità per i nostri ragazzi. A tutti loro va il mio più sentito ringraziamento. L'Ateneo si è anche fatto promotore di iniziative di aggregazioni interuniversitarie quale Unistud che è il coordinamento nazionale delle segretarie studenti dell'università italiana oramai giunto alla seconda edizione che si tiene a Como e MDQ Next il coordinamento dei manager didattici della qualità di cui l'Ateneo è uno degli ideatori. Abbiamo sviluppato insieme al Cussinsu per un programma unico in Italia volto a coniugare lo sport con lo studio. A oggi grazie a convenzioni con le federazioni di atletica leggera di cannottaggio di tiro con l'arco e di scinordico il nostro Ateneo ospita una ventina di giovani atleti di interesse nazionale che hanno trovato da noi un modo di proseguire l'attività agonistica e al contempo di costruirsi un futuro professionale. Programmi simili esistono all'estero ma il nostro si caratterizza per il fatto di richiedere ai ragazzi di essere contemporaneamente buoni atleti e buoni studenti e perché guarda gli sport individuali anziché a quelli di squadra. I risultati ottenuti parlano da soli. Abbiamo avuto atleti convocati per l'Università di Invernali per i campionati europei di cross per i campionati del Mediterraneo e tante altre gare ancora e in alcuni casi sono arrivate anche delle medaglie. Tra i primi in Italia abbiamo attivato la scuola di specializzazione in valutazione e gestione del rischio chimico che ha visto la collaborazione di diversi dipartimenti presenti in Ateneo e più recentemente in collaborazione con la Marina Militare con la REU che è l'azienda regionale Emergenza Urgenza e il DAN Europe il Divers Alert Network abbiamo lanciato un master di secondo livello in medicina subacqua e iperbarica. E' proseguita l'attività di modernizzazione dell'amministrazione anche attraverso una riorganizzazione che ha consentito un aumento del fondo di contrattazione di secondo livello che tuttavia resta largamente insufficiente per riconoscere al personale un compenso adeguato al livello di professionalità e capacità che mette in campo ogni giorno. Anche in questo caso vincoli normativi volti di fatto a penalizzare il pubblico dipendente hanno come unico effetto quello di demotivare il personale capace. L'Ateneo in questi anni è profondamente cambiato e acquisito un'identità propria che data la giovane età era in buona parte da costruire. La costruzione dell'identità è un processo lungo e non ancora completato che a mio parere richiede innanzitutto un'identificazione con dei luoghi dei luoghi in senso geografico. Oramai è un dato di fatto come a Varese vi sia un quartiere universitario a Bizzozzero dove si trova il campus e dove a breve verranno trasferite le funzioni universitarie ancora presenti in Piazza della Repubblica. A Como lo sviluppo dell'Ateneo ruota attorno al polo di Sant'Abbondio dove siamo oggi per la parte giuridico sociale e al polo di Via Valleggio Castelnuovo per la parte tecnico-scientifica. L'università degli studi è l'Insubra quindi e al contempo l'università di Como e l'università di Varese. Siamo nati come università bipolare e tale rimarremo. L'Insubra per crescere ha bisogno di Como e ha bisogno di Varese. La contrapposizione campanilistica tra le due città non riguarda l'Ateneo che viceversa della bipolarità ha scelto di farne motivo di orgoglio e di sviluppo. Voglio dedicare qualche riflessione alla realtà di Como sia perché oggi è qui che la cerimonia si svolge sia perché da tempo nella città si svolge un dibattito sul ruolo dell'università al quale se mi permettete vorrei dare un piccolo contributo. Como vede la presenza di diversi istituti di formazione superiore oltre all'università degli studi dell'Insubria sono presenti l'Accademia di Belle Arte Aldogalli il Conservatorio Giuseppe Verdi e il Politecnico di Milano con quest'ultimo l'Insubria ha sempre condiviso spazi ed edifici è un fatto che il Politecnico di Milano in questi anni abbia ridotto in modo molto significativo la propria presenza per non dire che è in atto un processo che porterà all'uscita dell'Ateneo milanese dalla città. Non è mio compito commentare tale processo né tantomeno provare a individuare le cause che hanno portato a tale decisione tuttavia a tale riguardo voglio dare voce alla comunità accademica insubre. Ebbene il pensiero della nostra comunità è che per la città sarebbe più utile avviare una riflessione che coinvolga il nostro Ateneo e le altre istituzioni comasche sul futuro in termini di progettualità da realizzare assieme ad esempio il potenziamento della scuola di Como ma è giusto per fare un esempio anziché proseguire in un dibattito temo ormai inutile sul perché si è accaduto quel che è accaduto e cosa si sarebbe dovuto potuto fare per evitare che un processo ormai reversibile vada a conclusione. Como è sufficientemente forte per sviluppare la propria vocazione di città universitaria con la presenza delle tre istituzioni che da sempre appartengono a questa città l'Accademia Galli il Conservatorio e l'Università degli Studi dell'Insupria. Voglio quindi ribadire pubblicamente quanto già espresso nei luoghi istituzionalmente deputati. L'Ateneo ha intenzione di continuare a investire sulle sue sedi e ha già stanziato risorse rilevanti per la ristrutturazione degli spazi restituiti alla provincia dal Politecnico di Milano in via Castelnuovo. Attendiamo solo di entrarne ufficialmente in possesso. È nostra intenzione aprire il Collegio Santa Teresa dopo però i necessari lavori di adeguamento alle vigenti normative in modo tale da raddoppiare le possibilità di alloggio per gli studenti fuori sede. La residenzialità è un fattore importante di crescita e il primo passo l'abbiamo fatto rendendo disponibili 30 posti letto presso la presentazione in base a un accordo che abbiamo siglato a suo tempo col Politecnico e col gestore di quella struttura. Sia Varese sia Comodo il rapporto con gli enti locali amministrazioni comunali e provinciali innanzitutto è oggi molto più che nel passato improntata alla collaborazione. Non è tanto una questione di schieramenti politici quanto di piena comprensione del ruolo che la presenza di un'università può svolgere nello sviluppo del territorio da un lato e dall'altro l'aver capito noi accademici che un'università moderna non può vivere isolata dal territorio nel quale si trova. È nostra intenzione andare avanti insieme alla SST dell'Ario in un percorso che in tempi brevi porta alla firma della convenzione tra Regione Lombardia la SST dell'Ario giusto appunto e noi per far diventare l'ospedale cittadino polo formativo universitario a pieno titolo così come già accade nella sede di Varese per la SST dei Sette Laghi. Gli investimenti dell'Ateneo sono stati ingenti in questi anni sia a Como sia a Varese l'edificio di laboratori chimico-ambientali di Via Valleggio il cosiddetto Cubo il palazzetto ai campi sportivi a Varese la colonia agricola dove il primo dotto di lavoro è terminato il secondo è partito e tanto altro ancora. Abbiamo garantito il diritto allo studio a nostre spese assicurando che gli studenti iscritti all'Università degli Studi dell'Insubria risultati idonei beneficino della borsa a cui hanno diritto anche in assenza di adeguati fondi regionali. Ma abbiamo anche raddoppiato il numero delle borse di studio d'Ateneo a cui si accede però solo per merito. Abbiamo investito sui dottorati di ricerca arrivando in pochi anni quasi a raddoppiare le risorse disponibili che oggi sono circa di 3 milioni di euro all'anno e sugli assegni di ricerca a cui però si accede unicamente in modo competitivo. Tutto questo perché crediamo nei nostri giovani e quindi abbiamo il dovere di essere controtendenza rispetto al disinteresse mostrato a livello nazionale. Questi investimenti sono stati resi possibili grazie a una capacità di finanziamento dovuta in larga misura le performance dell'Ateneo in termini di qualità della ricerca e all'aumento del numero degli studenti che ha portato risultati positivi sia in termini di contribuzione studentesca ma soprattutto in termini di finanziamenti pubblici per effetto del meccanismo dei costi standard. Detto per inciso qualcuno sta mettendo in discussione l'utilità del costo standard. Domani ANWUR che è l'agenzia di valutazione del sistema della ricerca presenterà i risultati analitici del processo di valutazione della qualità della ricerca la cosiddetta VQR 2011-2014 i cui risultati aggregati sono già stati presentati a fine dicembre e utilizzati per la distribuzione delle quote premiali del fondo di finanziamento ordinario dell'anno 2016. Sono certo che anche questa volta ANWUR non riuscirà a resistere alla tentazione di stilari classifiche come se l'università fossero squadre partecipanti a un torneo di calcetto. Se così accadrà avrà perso l'ennesima occasione per cercare di far diventare il processo di valutazione dell'università qualcosa di veramente serio. Personalmente credo nella necessità della valutazione ma sono costretto a osservare come oramai prevalgano logiche politiche anziché meritocratiche. L'obiettivo di questo processo di valutazione la VQR 2011-2014 era quello di ridurre le distanze tra tenei la vera il vero obiettivo ed ecco trovata la soluzione diminuire il prodotto di prodotti da valutare due per il ricercatore anziché tre l'effetto era ovvio le distanze infatti sono diminuite e la ridistribuzione delle risorse è avvenuta. L'insubre ha perso lo 0,43% del finanziamento rispetto all'anno precedente Milano Statale l'1,59% Milano Bicocca l'1,57% il Politecnico l'1,56% e via dicendo si tratta almeno per noi di cifre molto piccole che non modifichino in alcun modo i nostri progetti futuri quello che ci disturba non è tanto che avvenga un riequilibrio tra tenei a spese innanzitutto del sistema universitario lombardo c'è da dire però quanto il fatto che lo si presenti come l'esito di un processo di valutazione crediamo fortemente nella valutazione e per il momento osserviamo che l'unico comparto delle pubbliche amministrazioni in cui vi è un tentativo di sistema di valutazione che influenza però in modo significativo il finanziamento ebbene questo comparto è quello dell'università però sappiamo che continuando a cambiare i meccanismi di valutazione cosa che accade puntualmente ogni anno dove le regole per l'accreditamento vengono modificate e ogni volta che si parla di valutazione della ricerca anche qui si ridefiniscono le regole ogni volta ebbene l'unico effetto di questo continuo modifica dei meccanismi di valutazione l'unico effetto che si ottiene è quello di aumentare la ragione di coloro che voi per motivi ideologici voi per motivi di opportunismi rifiutano la valutazione quello che chiediamo è serietà serietà da parte di chi ci governa nell'affrontare i problemi della nostra società del nostro sistema delle imprese del nostro sistema formativo di noi tutti serietà nell'analisi dei problemi serietà nella valutazione dell'efficacia delle risposte per quanto riguarda il sistema universitario fino ad oggi abbiamo visto a livello nazionale un mix di tanto disinteresse analisi semplicistiche e tentative di risposta inadeguate il timore è che oggi l'attenzione di chi ha il compito di dare risposte sia non solo lontano dai problemi del sistema universitario ma si stia sempre più allontanando dai problemi della nostra società l'augurio è che si tratti solo di un momento di difficoltà o di disattenzione e che ci sia la capacità da parte di tutti di reiniziare a lavorare seriamente per il bene del nostro paese delle nostre imprese delle nostre università lo dobbiamo a noi stessi e soprattutto lo dobbiamo ai nostri giovani dichiaro ufficialmente aperto l'anno accademico 2016-2017 prende ora la parola il prorettore vicario il professor Giuseppe Colangelo Stimatissimo Onorevole Sua Eccellenza Signor Prefetto Il giustissimo Signor Sindaco Signor Presidente della Provincia di Como Signor Presidente del Tribunale di Como Rettori Comandanti Direttori Generali Chiarissimi Colleghi Dirigenti Funzionari e Personale dell'Amministrazione Universitaria Cari Studenti Gentili Signori e Signore L'Università dell'Insubria dopo quasi 19 anni di attività è ormai ben consolidata nella città di Como abbiamo due importanti poli didattici uno quello in cui ci troviamo il Polo di Sant'Abboglio riservato agli studi giuridici economici linguistici e sociali e l'altro sito in via Valleggio dedicato alle scienze pure la matematica la fisica la chimica e anche le scienze ambientali entrambi i poli sono stati recentemente potenziati ed ampliati questo polo in cui ci troviamo ha visto da qualche anno l'apertura della cosiddetta manica lunga mentre quello di via Valleggio ha registrato da poco la giunta non trascurabile della palazzina dei laboratori abbiamo desiderio di ampliarci ulteriormente per il polo di Sant'Abbondio c'è il progetto di portare la biblioteca oggi sita in via Oriani qui costruendo in modo ecologicamente corretto e rispettoso dei beni culturali e artistici situati nelle vicinanze una nuova struttura nel prato oltre il parcheggio di Sant'Abbondio per il polo di Valleggio siamo in procinto di ricevere dalla provincia una parte della costruzione di via Castelnuovo liberata dal Politecnico e quindi di allargare gli spazi dedicati alle nostre attività in questi due poli lavorano 135 docenti strutturati e studiano ben 2618 studenti si tratta di cifre non trascurabili per una città delle dimensioni di Como l'Università dell'Insubria è l'unico ateneo pubblico che costitutivamente svolge la sua attività nelle città di Varese e di Como di Como e di Varese sul piano di assoluta parità non potrà mai abbandonare né Varese né Como d'altronde se guardiamo ai dati della domanda l'Università sta avendo successo in entrambe le sedi nonostante la crisi economica non del tutto superata le immatricolazioni complessive nel corso dell'ultimo anno accademico sono aumentate dell'11% portando l'Insubria ormai a livello delle 3.000 matricole ci siamo ormai fatti conoscere per una formazione universitaria di base particolarmente curata che prepara bene i giovani del nostro territorio e tutti quelli che desiderano venire a studiare qui il nostro rapporto studenti docenti è contenuto se paragonato a quello degli atenei delle grandi città e questo permette di offrire allo studente una formazione personalizzata le infrastrutture materiali e immateriali sono oramai ad un ottimo livello dobbiamo mantenere questi standard dobbiamo continuare a migliorarci a Como negli ultimi mesi è molto migliorata la situazione dei posti letto disponibili per i fuori sedie nei collegi universitari e continuerà a migliorare da poco come ben sapete ha aperto il bel collegio della presentazione dove l'insubile dispone di 30 posti a breve riapriremo il collegio di Santa Teresa è sicuramente questo l'anno buono ci stiamo lavorando e dopo una serie di adeguamenti e di migliorie riaprirà ringraziamo il comune per la fiducia accordateci su questo immobile lavoriamo anzitutto a beneficio del sistema imprenditoriale del territorio i nostri migliori laureati non devono andare lontano a lavorare vengono assunti a chilometro zero appena laureati dalle aziende che operano vicino all'università è così ad esempio a Como per Scienze del Turismo dove nei migliori alberghi del territorio e del lago lavorano parecchi nostri laureati è così anche nelle aziende tessili e chimiche che assumono i nostri laureati delle materie chimiche e su questo aspetto torneremo a parlare al momento del conferimento della rossa comacina ma è così anche a Varese ad esempio nelle materie economiche e ovviamente in quelle sanitarie vista la presenza in città dell'ospedale strettamente legato all'università anche a Como speriamo di poterci legare di più alle attività ospedaliere del Sant'Anna mi sembra quindi di poter affermare che l'insubria ha assunto una maggiore importanza soprattutto negli ultimi anni che la portano a configurarsi sempre di più come istituzione pivot nella lunga filiera educativa e lavorativa dei nostri territori crediamo fermamente nel fatto che il lavoro senza studio e istruzione prima abbia molto meno valore e d'altronde è anche vero che lo studio fine a se stesso che poi non si realizza nel mondo del lavoro ha anch'esso meno valore crediamo fermamente nella stretta collaborazione con le altre istituzioni del territorio scuola università imprese ed enti pubblici territoriali solo così potremo offrire ai nostri giovani un percorso formativo ben fatto che li porterà a passare nel corso degli anni da essere giovani studenti a lavoratori impegnati e competenti solo dopo aver approntato una valida offerta universitaria di base basata su ottime triennali potremo anche offrire in alcune discipline dove siamo particolarmente esperti delle scuole di eccellenza a livello di magistrali e di master in questa linea l'insubria voglio ricordare è una delle quattro università che partecipa e che crede fermamente nella validità della Como Lake School nata da un'idea del professor Casati realizzata grazie alla collaborazione con la fondazione Volta ricordo altresì che sta per decollare in Como un master universitario per promotori del dono a vantaggio delle istituzioni non profit del territorio in cui la nostra università ha voluto affiancare la fondazione Comasca nella sua lunga esperienza sul campo apportando dalla sua la competenza accademica la scuola di Como che ha già ricordato il rettore ovvero la nostra esperienza comasca del collegio di merito è ormai una realtà che portiamo avanti da qualche anno e che offre una formazione non solo professionale ma anche umana più approfondita agli studenti comaschi che lo desiderano è aperta non soltanto agli studenti in Subria ma anche a quelli del Politecnico dell'Accademia Galli e del Conservatorio abbiamo quest'anno anche rilanciato il nostro centro speciale per la simbolica e beni culturali organizzando a Como un importante convegno sulle immagini del Giappone che ha visto la partecipazione oltre che di importanti relatori anche dell'ambasciatore del Giappone del nostro paese e il centro intraprenderà altre interessanti iniziative già da quest'anno non posso poi non ricordare le innumerevoli iniziative culturali a cui la nostra università partecipa insieme ad altre istituzioni culturali della città collaboriamo con Parolario con Como Film Festival diverse sono le collaborazioni con il teatro sociale abbiamo organizzato in biblioteca comunale una serie di incontri sulla matematica ormai da anni collaboriamo con la manifestazione Europa Inversi parliamo regolarmente e collaboriamo con il Politecnico con l'Accademia Galli e con il Conservatorio molto è stato fatto ma molto rimane ancora da fare e lo faremo anche in questo anno accademico con la passione per il nostro lavoro che ci contraddistingue e ben consapevoli delle nostre responsabilità sociali ringraziando dell'attenzione formula un caloroso augurio per un'ottima continuazione di un grande anno accademico l'anno accademico 2016-2017 come avete avuto modo di sentire già il nostro ingresso con il brano di Elgar la nostra mattinata sarà allietata dalla presenza dell'ensemble orchestrale delle associazioni studentesche e dal soprano Consuelo Gilardoni che dovrebbe apparire dal fondo di questa sala esattamente che eseguiranno il Valzer di Musetta tratto dalla Bohemia di Puccini e il So Anch'io la Virtù Magica tratto dal Don Pasquale di Don Izzetti e non solo per tutta la durata dei discorsi del Rettore e del Pro Rettore avete avuto modo di ammirare di fronte a voi e quindi alle mie spalle le immagini di tutte le nostre attività e di tutte le nostre bellissime sedi e di tutte le nostre attività resilienti e di tutte le nostre attività in casa Grazie a tutti. 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 Magnifico Rettore, Magnifico Rettore Vicario, Autorità, Direttori, Docenti, Personale Tecnico Amministrativo, Studenti, Gentili Ospiti. In onore della conformazione bipolare del nostro Ateneo con le due sedi di Varese e di Como, prima di prendere la parola lascio spazio per un saluto al mio collega ed amico Federico Giovanni Galbiati, rappresentante degli studenti in senato accademico eletto per la sede di Varese. Grazie. Grazie a tutti. 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 discorso introduttivo della materia. Come primo gesto prese un gessetto e scrisse alla lavagna una frase di Plutarco, la mente non è un vaso da riempire ma un fuoco da accendere. Quindi professori accendeteci, trasmetteteci la passione che vi ha spinto a dedicare tutta la vita allo studio della materia che ora avete la straordinaria opportunità di insegnarci. Ricordate che di fronte a voi siedono persone che liberamente tutti i giorni decidono di entrare in aula ed ascoltare per imparare. Parlateci di voi, rendeteci partecipi. Nell'epoca del complottismo e della verità pret-à-porter, a voi il compito di non imbottirci di nozioni come potrebbe fare una qualsiasi pagina di Wikipedia, ma di instillare in noi la curiositas non solo per la vostra area di competenza ma per la conoscenza in generale, trasformandoci in attori critici in grado di formare un nostro giudizio autentico e di diventare i vostri degni successori. A voi studenti, seppure non presenti qui fisicamente, dico non date nulla per certo, non consideratevi mai arrivati, non pensate di avere la verità in tasca. Laddove c'è il dogma, la presunta certezza, lì c'è immobilità, incapacità di progredire. Ricordate che siete la ragion d'essere dell'università, la sua linfa vitale e non fermatevi neppure quando vi verrà detto che è impossibile realizzare quello che chiedete. Di fianco a questa sede a Santa Bondi oggi, apre una nuova aula studio di proprietà dell'ufficio della pastorale universitaria della diocesi di Como, che ha provveduto a sue spese alla ristrutturazione. L'aula sarà gestita da una cooperativa, nata su iniziativa di studenti dell'università e che intende mantenere la struttura aperta proprio grazie al lavoro degli studenti stessi. Comunque vada che l'aula sia piena tutti i giorni, tutto il giorno, come mi auguro e sono certo accadrà, o che rimanga vuota, sarà comunque un successo straordinario, perché è la dimostrazione che volere è potere e che agendo insieme, anche mediante la collaborazione con enti esterni, è possibile creare qualcosa di buono ed utile a tutti. Una parola infine rivolgo ai miei colleghi rappresentanti degli studenti. Siamo stati eletti per creare un ponte che mette in relazione gli studenti con i docenti e l'amministrazione. Il nostro mandato è forte di una partecipazione alla vita politica universitaria senza precedenti nel nostro Ateneo. Le votazioni per gli organi di governo hanno registrato più del 17% di affluenza contro l'11% di due anni fa, con oltre 10.000 voti espressi contro i 6.000 della precedente votazione. Si tratta di un grande risultato, che però non deve farci adagiare. Dobbiamo continuare a lavorare affinché la nostra università funzioni veramente come una macchina perfettamente rodata, in cui tutti contribuiscano in nome dell'amore per il sapere. Si tratta di un percorso in cui non va alcun punto d'arrivo, ma semplicemente un punto di partenza comune. L'avere una madre, un alma mater, in comune, l'insubria. Grazie a tutti. Quando ci sono i giochi olimpici abbiamo la possibilità di seguire degli sport di squadra che sono assolutamente splendidi. Sincronette che danzano nell'acqua come delfini, ginnaste che volano nell'aria come libellule incrociandosi con i loro nastri, ragazze che sorridono sempre, come se non facessero nessuna fatica. Ma dietro quei sorrisi c'è grinta, forza di volontà, fatica, sudore, ore e ore di allenamento per diventare un'unica mente, un unico corpo, un'unica atleta. E se una sola delle atlete sbaglia, se ne parla quattro anni dopo. Non vince il singolo, non perde il singolo, perde la squadra, vince la squadra. E con grandissimo piacere che do la parola al rappresentante del personale tecnico amministrativo, la dottoressa Katia Imperatori. Saluto le studentesse e gli studenti e le loro famiglie, le autorità, il magnifico rettore, il prorettore vicario, il direttore generale, i dirigenti, le colleghe e i colleghi presenti e coloro che ci seguono via streaming. È il momento di presentarci. Siamo il personale tecnico e tecnico amministrativo. Ad oggi siamo in 322, poche unità in più rispetto al 2015 e svolgiamo la nostra attività prevalentemente nella sede di Varese 222, Como 93 e Bustarzizio 7. Siamo 228 donne e 94 uomini. Oltre ai quattro dirigenti, il PTA conta 40 colleghi che prestano servizio nella categoria B, 165 nella categoria C, 102 nella D e 15 nella categoria EP. Livelli che sul campo a volte si confondono quando vengono svolte mansioni con competenze e responsabilità richieste a livelli superiori. Il 71% è nato in Lombardia ma proveniamo un po' da tutte le regioni che orgogliosamente rappresentiamo. Come curiosità vi dico che il nome più gettonato è Paola, seguito da Elena e Silvia. Per svolgere il nostro lavoro abbiamo fatto ricorsa all'Istituto dello Straordinario e Lavoro Eccedente per più di 13.000 ore sia nel 2015 che nel 2016. Dalla lettura di questi dati si evince che a fronte di un comparto pubblico che arriva alle cronache per fenomeni di assenteismo, noi orgogliosamente rappresentiamo la controtendenza per le ore svolte e per la disponibilità dimostrata anche fuori servizio avendo come obiettivo quello di garantire il regolare svolgimento dell'attività lavorativa. Ma pensiamo che non sempre sia sufficiente. Senza dubbio negli ultimi anni nel nostro Ateneo si sono avvicendati numerosi cambiamenti formalizzati nei decreti di riorganizzazione animati da fiducia, pazienza, speranza, buona volontà abbiamo continuato a lavorare assecondando seppur in diverso grado il cambiamento auspicato in passato e ritenuto come indiscutibile strumento di miglioramento. L'avvicendarsi di tali cambiamenti ha avuto effetti positivi facendo sprigionare nuove energie e idee ma in alcuni casi ha comportato un azzeramento dell'esperienza lavorativa pregressa e pertanto non sono mancati effetti negativi seppur imprevisti che hanno intaccato persino il senso di appartenenza all'istituzione. Si deve evitare il rischio di avere un Ateneo a due velocità, depauperamento delle professionalità da una parte e rafforzamento dall'altra, fatica di ricostruire un background personale e della struttura per alcuni e consolidamento delle competenze per altri. Il disagio manifestato in questi casi merita di essere ascoltato e non solo giudicato come atteggiamento positivo. Il nostro codice etico riporta all'articolo 15 ogni appartenente alla comunità accademica è libero di esprimere anche pubblicamente in forma motivatamente critica opinioni sull'attività e sul governo dell'Ateneo. Il dialogo, la trasparenza e la condivisione vanno valorizzati, ne sentiamo la necessità per poter dire la nostra liberamente e consapevolmente. Consideriamo che il nostro lavoro ha come presupposto la rielaborazione e l'interpretazione di un contesto complesso e sfaccettato e in continuo cambiamento. La ricchezza normativa di riferimento, nonché i nuovi applicativi e sistemi informativi, gli strumenti di laboratorio innovativi impongono un costante aggiornamento professionale che è diritto di ciascuno a tutti i livelli. La formazione deve essere la base di una concreta opportunità di valorizzazione e crescita professionale anche al fine di ottenere una valutazione positiva della propria performance. L'Ateneo stesso, d'altra parte, è oggetto di valutazione, come già ricordato, che troverà il suo momento di massima tensione probabilmente nel 2018, in occasione della visita in loco degli a commissioni di esperti della valutazione, a seguito della quale Anvur e Miur decideranno se l'Ateneo e i corsi di studi offerti continueranno ad avere l'accreditamento. Dovremo quindi essere tutti pronti e consapevoli del nostro ruolo per rispondere al livello qualitativo richiesto. È importante, pertanto, avere chiari i ruoli e le responsabilità delle varie componenti dell'Ateneo, docenti, studenti, amministrativi e, in particolare, degli uffici e delle strutture. La sinergia trasversale tra uffici, l'ausilio e la consulenza interdisciplinare dei tavoli tecnici e dei gruppi di lavoro possono facilitare lo svolgimento del lavoro e la descrizione dei processi se non si sovrappongono alla struttura organizzativa e le funzioni dell'amministrazione. Il personale tecnico-amministrativo per i prossimi anni consegna al magnifico rettore, al direttore generale, ai docenti e soprattutto a se stesso, il compito di realizzare un Ateneo dove le parole valorizzazione delle risorse umane, responsabilità, trasparenza, condivisione diventino parole concrete di vita vissuta. Questo è possibile se il personale tecnico rivaluta le forme di partecipazione diretta e i ruoli rappresentativi come quello della rappresentanza sindacale unitaria o del comitato unico di garanzia. Le problematiche dovute alla carenza di personale, alla stabilizzazione dei colleghi con contratti a tempo determinato, alla distribuzione degli incarichi, degli oneri e degli impegni lavorativi, nonché la loro verifica puntuale, dovranno necessariamente essere prese in carico dalla governance che, come anche in passato è stato evidenziato, deve e può suddividere i punti organico tenendo conto delle varie tipologie del personale dell'Ateneo, docenti sì, ma anche tecnici e amministrativi. Vorrei concludere con l'auspicio che quest'anno accademico sia per la componente amministrativa un anno di svolta con un recupero e un rafforzamento della consapevolezza del nostro ruolo, attraverso la riscoperta dei valori fondanti della nostra opera quotidiana. Opera quotidiana che deve essere certo densa di soddisfazioni e con uno spazio di autonomia, ma poi, in definitiva, deve essere costantemente al servizio degli studenti, dei docenti, della didattica e della ricerca, nonché della terza missione, lontana da ogni forma distorsiva di autoreferenzialità e interesse personale. Il nostro vero obiettivo è l'armonizzazione della nostra opera nel rispetto della normativa, con l'interesse all'apprendimento degli studenti e con l'interesse alla didattica e alla ricerca dei docenti. In definitiva, l'azione amministrativa crea l'ambiente dove si fa cultura ed è cultura concreta, attuata, essa stessa. Cultura amministrativa in quanto abitudine alla legalità, all'imparzialità, alla gestione economica delle risorse del buon padre di famiglia. Non sono vuote parole, ma è il nostro impegno quotidiano. Vi saluto con un pensiero d'Oriana Fallaci. Non si fa il proprio dovere perché qualcuno ci dica grazie, lo si fa per principio, per se stessi, per la propria dignità. E dal profondo del cuore auguro buon anno accademico a tutti. Aspettiamo, arriva Consuello Gilardoni per il secondo pezzo tratto dal Don Pasquale di Donizetti, se riusciamo a farla passare. Ok. Aspettiamo, arriva Consuello Gilardoni per il mondo Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. Nash studia. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. l'equilibrio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. è possibile. Grazie a tutti. Grazie a tutti. problema. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. The Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e 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 a tutti.